Ciao a tutti! Oggi sono qua per fare un piccolo aggiornamento sul modo in cui mi organizzo. All'inizio di ogni anno pubblico qua sul canale un video dedicato alle mie agende, a come ho intenzione di organizzarmi per le spese, per i lavori online, per la vita personale. Vi lascio magari qualche video nelle schede qua sotto in descrizione. Quest'anno ho fatto in realtà anche degli aggiornamenti, diciamo, sul blog, come mi organizzo utilizzando solamente il cellulare, quindi l'organizzazione digitale. Recentemente vi ho parlato anche di un nuovo metodo che ho introdotto nella mia routine e quindi ho pensato di fare anche un video aggiornamento. Prima di incominciare però vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video, oppure potete farlo acquistando attraverso i miei link da affiliata che trovate qua sotto in descrizione. Potete utilizzare anche i miei codici da affiliata che vi permettono di avere uno sconto, ad esempio su Pampling avete il 20% di sconto senza minimo di spesa e una percentuale va a sostenermi. Grazie di cuore davvero a tutti! Il 2020 si era aperto per me di nuovo con l'organizzazione Bullet Journal che devo essere sincera, durante il periodo lockdown ho abbastanza abbandonato. Sto continuando in realtà a periodi alterni a utilizzare l'agenda fisica ma la utilizzo più come valvola di sfogo per appunto decorare, disegnare. Ho molto bisogno spesso di sfogare la mia creatività manualmente, quindi lavorando all'uncinetto, mettendo posto a casa, cucinando, oppure attraverso appunto l'agenda. Lo utilizzo principalmente per impegni, idee riguardanti la sfera personale. A volte se ho delle idee per un progetto le metto giù su carta, soprattutto se magari devo disegnare. Disegnare adesso è una parolona, però fare giusto degli schizzi. Quindi diciamo che da principale mezzo di organizzazione è diventato in realtà un po' una spalla. Tutta la mia organizzazione si è trasferita sul cellulare, o comunque cellulare computer, tutto in digitale. Organizzo gli impegni, le cose da fare, le scadenze attraverso l'applicazione calendario del mio telefono. Semplicemente imposto la data, l'orario, se ho una scadenza o un appuntamento e poi utilizzo le etichette. Ogni colore equivale a un campo diciamo differente, lavoro, casa, youtube e così via. E di giorno in giorno vado poi a impostare gli impegni in maniera più, diciamo, specifica attraverso l'applicazione ProMemoria, che è sempre quella di default del cellulare. A volte inserisco l'orario, così riesco a farmi un po' la scaletta delle cose che sono assolutamente da fare. Non ho così quei momenti in cui non so da dove partire, non so che cosa fare prima. In genere mi ci metto la sera prima a organizzare, la serata dopo. Io la sera sono sempre super carica per il giorno dopo. Sono super presa bene, poi il giorno dopo magari non così tanto, però la sera prima sì. E quindi è quello il momento in cui tendo a organizzare il giorno successivo. Quindi che so, devo fare un dolce, so che deve stare 40 minuti in forno, in quei 40 minuti magari posso mandare la lavatrice, oppure posso filmare un video, oppure posso andare a fare questa commissione, oppure posso andare a fare la spesa. Cerco di incastrare in questo modo tutti i vari impegni, cose da fare, in modo da non avere grandi momenti di vuoto. Preferisco infatti togliermi le cose da fare e poi riposarmi. Il nuovo metodo d'organizzazione che ho inserito in questa mia routine è il metodo Kanban, di cui vi ho parlato sul blog. Vi lascio l'articolo nelle schede qua sotto in descrizione. Sostanzialmente è un metodo molto facile, che consiste in una sorta di bacheca e nei cartellini o post-it. In sostanza questa bacheca viene suddivisa in colonne, principalmente in cose da fare, cose che si stanno facendo, che sono in lavorazione e cose terminate. Io la mia personale l'ho divisa in realtà in quattro, utilizzando l'applicazione Trello, in cose da fare, in preparazione, da pubblicare per tutti quei lavori digitali che ho pronti, sistemati, ma devo soltanto attendere l'ok o la data comunque di pubblicazione, e tutte le cose terminate. Utilizzo questo metodo sia per le faccende, diciamo, personali, quindi le cose che devo svolgere a casa, le commissioni, gli appuntamenti, che per, ad esempio, il canale e Instagram, eccetera, eccetera. L'applicazione che utilizzo Trello la trovo molto molto carina. Innanzitutto è molto più facile rispetto ad avere, secondo me, almeno per come sono fatta io, una bacheca fisica e dei post-it da spostare fisicamente. Risparmio sulla carta. Posso spostare, appunto, le varie schede, che sarebbero questi cartellini, con quello che c'è da fare. Inoltre, ogni scheda si può aprire e inserire all'interno o delle liste di cose da fare, o, ad esempio, delle descrizioni, delle scadenze, eccetera. E anche in questo caso utilizzo molto le etichette, in questo modo mi viene fuori scritto che cosa ho da fare e il relativo colore, che è lo stesso, diciamo, che utilizzo anche sul mio calendario, quindi non ho dovuto imparare nessun codice nuovo, utilizzo le stesse identiche cose. Questo metodo l'ho introdotto un po' per avere una visione, diciamo, generale di quello che sto facendo, non soltanto di quello che devo fare, ma anche di quello di cui mi sto effettivamente occupando e di quello che ho terminato. Una cosa per me molto importante è perché mi aiuta a dare più valore anche alle cose che porto a termine. Io tendo a essere molto, molto dura con me stessa, nonostante io spesso abbia delle liste veramente di cose da fare assurde, anche se riesco a portarle a termine, non sono soddisfatta. In questo modo ho visibile tutte le cose che sono riuscita a fare, quindi riesco a essere un po' più calemente con me stessa. Brava, Donatella, ce l'hai fatta! In questo modo so però anche gestire meglio i lavori che non posso iniziare e finire immediatamente. Banalmente, faccio un esempio magari riferito a YouTube, visto che siamo su questa piattaforma, quando mi metto a registrare soprattutto i videovlog, cerco di segnarmi le clip che vorrei inserire, quelle che mancano, la musica, l'intro, esporto poi sempre la sigla o intro del video per poterla pubblicare anche su Instagram, devo editare la miniatura, quindi cerco di segnarmi tutte queste piccole cose, in modo che poi la mia scheda impostata nella colonna in lavorazione, io abbia un po' l'andamento generale delle cose che ho già fatto e di quelle che appunto devo ancora fare. Può essere utile anche quando ad esempio si organizza, io preferisco dividermi in giornate il lavoro, ad esempio se devo riorganizzare, è capitato recentemente di riorganizzare la cabina armadio, mi sono un po' data, non delle scadenze, ma ho diviso il lavoro a blocchi, e quindi anche per, diciamo, i lavori, i progetti, le cose personali, può essere utile, perché così si ha un po' l'idea dell'andamento, di quello che si sta facendo e che manca da fare. Non è necessario chiaramente scaricare l'applicazione che sto utilizzando io, come vi dicevo, potete anche semplicemente attaccare dei posti sul muro, come ho fatto per le foto per il blog, o appunto utilizzare anche una semplice lavagnetta. È un metodo di organizzazione, mi rendo conto, molto molto essenziale, molto molto semplice, però preferisco, perché in questo modo per me è tutto chiaro. Inoltre il fatto di non dover per forza aggiornare l'agenda fisica, dovermela sempre portare dietro, comunque averla sotto mano, lo so che da una parte appunto è un po' una valvola di sfogo per me, però dall'altra parte so che risparmio sui materiali, è molto più pratico, l'applicazione sia del calendario che promemoria, e Trello la posso utilizzare, ed è sincronizzato telefono, computer, iPad, quindi anche se lavoro da PC, poi mi sposto sul telefono, ho sempre ben tutto chiaro. Ultimissima cosa che vorrei citare in questo video, visto che non lo avevo fatto inizio anno, nel video di organizzazione, ma appunto come vi dicevo, avevo creato una sezione dedicata sul blog, per quanto riguarda la sfera personale, ho iniziato a trasferirmi sul digitale molto anche in quel senso, tranne per quanto riguarda il kakebo. Il kakebo penso che sia l'unica cosa non digitale che sto utilizzando, ovvero il quaderno dei conti di casa. E' doloroso scrivere quanto si spende, quanto rimane, però è una cosa secondo me necessaria, perché concretizza veramente molto, e aiuta a porsi degli obiettivi. Comunque a parte questo, sto utilizzando un'applicazione molto interessante, per il cellulare, per fare ad esempio la spesa, che trovo molto utile, perché posso condividerla ad esempio con mio marito, in questo modo se uno dei due capita, che ha occasione di fare la spesa, almeno ha già la lista sul telefono, e è una lista che noi aggiorniamo ogni volta che magari finisce qualcosa in casa, che sia ad esempio la carta igienica, la carta da forno, le lenticchie, la pasta. Ovviamente prima di fare la lista finale, vera e propria, tendo sempre a fare una sorta di menù settimanale. Io ho una lavagnetta magnetica, che attacco banalmente al frigo, poi ci scrivo insomma le mie idee. In realtà si potrebbe fare una sorta di menù settimanale, utilizzando sempre l'applicazione Trello, e sfruttando appunto le varie colonne, magari si fa una colonna per giorno della settimana, e si creano varie schede, per le cose che avete intenzione di mangiare, e utilizzare le etichette, per mettere ad esempio se un piatto è vegano, oppure c'è della carne, c'è del pesce, i legumi, eccetera eccetera. Io ho tentato di farlo, ma ancora non mi sono messa sotto, però potrebbe essere un'ottima idea, per sfruttare appunto l'applicazione, dal momento che si possono fare comunque diverse bacheche, quindi potete suddividere il lavoro, anche in base al vostro settore campo, che sono uno per il lavoro, uno per la sfera personale, uno per il mondo digitale, un altro appunto il piano settimanale. Comunque è un'applicazione molto carina, perché in base alla stagionalità dei prodotti, vi mettono appunto anche dei consigli, quindi potete vedere, se magari non lo sapete, o non avete voglia di ricercarlo, non vi viene molto naturale farlo, potete vedere magari la frutta e la verdura, che è di stagione. È utile, perché magari dà anche degli spunti interessanti, se volete provare qualcosa di nuovo, e non comprare sempre le stesse cose, cosa che purtroppo a me capita ad esempio. Ha una grafica molto carina, molto accattivante, quindi è un piacere utilizzarla, e come vi dicevo, per me è molto comodo. Io prima tendevo a fare la lista sempre da cellulare, utilizzando ProMemoria, però facevo più fatica a sincronizzarla con quella di mio marito, e la cosa bella è che appunto ci sono delle icone per prodotto, quindi anche visivamente, senza dover leggere patate, vedo la figura della patata, ho in mente che cosa devo andare a prendere. Si possono anche riorganizzare i prodotti, e io tendo a organizzarli in base al percorso, disponibilità del supermercato dove vado più spesso. Che so, io entro, c'è subito il reparto ortofrutta, poi c'è la carne, poi ci sono i prodotti in scatola, la pasta, e infine i surgelati, allora cerco di ordinare in questo modo la lista. Comodo, perché così non devo fare avanti e indietro, avanti e indietro, tutte le volte che magari vedo una cosa, poi mi dimentico che c'è anche quell'altra cosa da prendere, e insomma. Magari dal proposito vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione anche il video che ho dedicato ai consigli per risparmiare sulla spesa. E nulla, penso di aver detto tutto riguardo a come mi sto organizzando ultimamente, come sto pian piano mutando e cambiando, una cosa che trovo molto naturale, perché in base agli impegni, a come magari ci sentiamo in un certo periodo, in base anche al tipo di lavoro che stiamo facendo, le nostre necessità possono cambiare, e secondo me è bello anche tenere documentato questo cambiamento. Fatemi sapere qua sotto nei commenti come vi organizzate voi, se utilizzate il metodo Kanban, il kakebo, se preferite l'organizzazione non digitale, che è sicuramente molto più creativa, però in realtà ho visto diversi video di ragazze, piccola parentesi, che si dedicano al bullet journal, però sull'iPad, creano praticamente degli spread, delle pagine su Procreate, poi le esportano in un'altra applicazione che adesso non ricordo, e praticamente sembra proprio di sfogliare un bullet journal solo che è digitale, quindi direttamente nell'iPad, è fighissimo ed è comunque molto molto creativo. Comunque vabbè, fatemi sapere se siete per l'agenda fisica o se vi organizzate in maniera diciamo digitale. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!